principesse tre amici speciali un amico per cucciolo è un bel giorno di primavera i nanetti suonano e biancaneve balla con il principe solo cucciolo non partecipa alla festa ha appena fatto amicizia con un simpatico bruchetto e ha deciso che lo porterà a casa con sé qualche giorno dopo biancaneve porta dei biscotti ai nanetti cucciolo sembra triste dov'è il tuo amico gli chiede la principessa cucciolo allora le mostra un piccolo bozzolo attaccato a un ramo il bruchetto si è nascosto lì dentro e non è più uscito spiega proprio in quel momento il bozzolo si apre e ne esce una meravigliosa farfalla il bruchetto si è trasformato la farfalla sbatte le sue ali colorate ed è pronta a volare via o no adesso non giocherà più con me dice cucciolo preoccupato invece la farfallina fa una pirouette e si posa proprio sul naso dell'anetto cucciolo sorride felice ora sa che saranno amici per sempre una principessa per ragia un giorno jasmine aladin abu e ragia notano una locandina c'è il circo esclama la principessa i nostri amici entrano nel tendone e lo spettacolo inizia ci sono le scimmiette acrobate e i giocoglieri ragia però non si diverte poi il direttore presenta l'eroina del circo la tigre mallica appena la vede entrare ragia resta incantato è davvero bellissima più tardi ragia saluta mallica anche lei lo trova molto simpatico jasmine vuole portarla a palazzo ma purtroppo non è possibile il giorno dopo ragia sospira sul suo cuscino è molto triste jasmine chiama qualche amico per distrarlo un po ma è tutto inutile quella sera però il direttore del circo arriva a palazzo con la sua tigre mallica sente la mancanza di ragia spiega jasmine ragia corre subito a salutare mallica finalmente le due tigri sono felici e jasmine ha un'idea il circo si trasferirà a palazzo la sera dopo tutti festeggiano nel giardino grazie a jasmine gli spettacoli continueranno e ragia e mallica saranno sempre insieme un cucciolo coraggioso un giorno vicino al cancello bel trova un cagnolino sporco impaurito resterai al castello con noi piccolo dice la principessa più tardi però la bestia si arrabbia con bel il tuo cane ha rovinato le mie rose grida mostrandole una piantina spezzata subito dopo bel nota che lo sgabellino è sporco di fango è stato lui a combinare quel disastro perché è geloso del nuovo arrivato bel lo chiama ma lo sgabellino scappa verso il bosco e il cucciolo lo segue tornate qui è pericoloso grida inutilmente la principessa bel preoccupata si precipita nel bosco insieme a lumiere ma è già troppo tardi un branco di lupi cattivi ha circondato i cuccioli il cagnolino tuttavia non ha paura e cerca di proteggere lo sgabellino per fortuna poco dopo arriva la bestia che mette in fuga i lupi poi i nostri amici tornano a casa ora lo sgabellino non è più geloso e anche la bestia è felice di avere due cuccioli da coccolare fine